Io ho aiutato i frati della custodia di Terra Santa, in particolare la comunità del Gezzemani, che si trova appunto a Gerusalemme, per realizzare un sito per la preghiera. Raccoglie persone in tutto il mondo che il primo giovedì del mese, idealmente, spiritualmente, si vogliono raccogliere proprio lì, al Gezzemani, dove, diciamo, il posto a me è carissimo, perché è il luogo del compimento, è il luogo dove inizia veramente la nostra storia. Manuela è una retina che quattro anni fa ha visitato per la prima volta la Terra Santa e da allora si impegna come volontaria per sostenere la comunità francescane che custodiscono i luoghi santi, come appunto il Gezzemani. Una fede rinnovata dunque anche dall'incontro con padre Ibrahim, che dal 2014 è il parroco di Aleppo, a pochi metri dal confine con l'Isis. E proprio questo legame porterà padre Ibrahim ad Arezzo, nella parrocchia di Pescaiola, per un incontro con la cittadinanza, in programma il prossimo 22 di novembre alle 18. La parrocchia sua, che è quella di San Francesco d'Assisi, era a 60 metri col confine con i guerriglieri dell'Isis. Quindi addirittura, tanti sapranno, insomma, che dopo vari tentativi, una bomba addirittura ha colpito la cupola della chiesa, ma c'è rimbalzata sopra, proprio nel momento che lui celebrava la messa. Quindi è proprio la persona diretta, lui ci sa esporre direttamente quello di cui c'è bisogno ora lì, quella che è la situazione. Lui appunto presenta dei progetti che vengono proprio dalla custodia di Terra Santa, quindi gestiti da loro. In questo momento, come sapete tutti, Aleppo è libera, ma è distrutta. Quindi un progetto in particolare che adesso anche l'Associazione Terra Santa sta, diciamo, caldeggiando, è proprio la ricostruzione delle case per le famiglie.